Anche Xenia taceva, non sapendo che dire. Infine gli chiese dolcemente, come stai? Parlarono di cose insignificanti, anche del tempo che faceva, e i minuti passavano, ed essi nulla trovavano per uscire da quel vano discorrere. Tutti e due si sentivano impensatamente vuoti, come una canna. Mangi? gli chiese Xenia. Sì, mangiava. Pagandosi può avere quello che si vuole, è buono il vito, ma certe volte manca la voglia. Allora dava il suo pranzo a quelli che non l'avevano. Così fu per la bistecca di ieri sera. Io la mando sempre a un poveraccio che, passando per andare a prendere aria nel cortile, mette gli occhi alla mia grata. Tre dita di latta bucherellata. La grata non più. Dunque, dicevo, lui mette gli occhi lì, dice, coraggio, sai... I primi giorni sono molto duri, non il primo magari. Il primo s'aspetta che da un momento all'altro la porta si apra e ti rimettano fuori. Passeggi, neppure ti siedi. È inutile, tanto si uscirà subito adesso. Ogni passo nel corridoio sembra essere quello di chi ti deve liberare, riportare per la strada. Il secondo, poi, sei sicuro che ti faranno uscire, non può tardare. Ci sono gli amici fuori, che diamine, se ne interesseranno. Il terzo, il quarto, è disperante. Quando vedi che le ore passano, senti suonare la campana a una chiesa vicina. La luce se ne va, un'altra notte si avvicina e non viene nessuno e sei solo, solo, proprio solo. Non sai a chi parlare, con chi sfogarti e non puoi chiamare quelli di fuori. Forse neppure se ne ricordano, non fanno niente. Quando si è fuori non si pensa a chi sta qui dentro. Fece una pausa, sorrise e disse, poi ci si abitua. Allora Xenia lo confortò. Ma sai bene, la cosa è in mano a Ranieri. Sai che avvocato è? Sta tranquillo, si tratta di giorni. E sapide che le sue parole erano uguali a quelle della donnetta. La donnetta che adesso stava in silenzio, infredolita, stringendosi nel paltoncino di peluche. Il marito di fronte la guardava, le mani tra le gambe, e tacevano entrambi aspettando il momento di andare lei fuori e lui dentro. Quando la guardia passava davanti a Xenia e Dino, loro due non si vedevano per un attimo, ed era come se fossero sbalestrati ad incommensurabile distanza. Bastava quel corpo tra di loro perché non esistessero più l'uno per l'altra. Lo sguardo di Dino era divenuto simile a quello dell'altro detenuto, vacuo, come d'uno che sogni a occhi aperti attendendo qualcosa di straordinario, un miracolo. Anche lui faceva con la testa. Sì, sì, diceva. Vero, sì, lo so bene, è questione di giorni. E si rallegrava. E intanto Xenia l'osservava. Un uomo finito, finito. Non era possibile che fosse lo stesso di quella sera che cenavano in albergo a Sanremo, bevevano e l'orchestrina suonava Mozart. Erano pure state ore felici. Non parlava mai d'amore. Dino. E ogni giorno, però, faceva per lei quello che poteva. Andava anche in prigione. Forse non immaginava che il suo guaio fosse così serio, che gli altri non pensavano che a cavarsi loro dagli impici e tutto ormai ricadesse soltanto su di lui. Xenia lo guardava con infinita tenerezza, come un ricordo che si vuole trattenere per un attimo prima che scompaia per sempre. Dino fece affettuosamente. Già, e tu come te la passi? Oh, non ti preoccupare per me. Gli fece intendere che sì, adesso bisognava che stesse tranquillo, che pensassi a lui. Il suo caso era il più importante per il momento. E lui consentiva pianamente, creando in sé la fiducia, anzi la certezza, sì che tanto sai bene, tra poco esco. Con voce sicura soggiunse. Forse Dino con questa frase aveva voluto allontanare ogni spiegazione. Pensò alla ragazza. Non si occupa più di me. Accetta che debba occuparmene io ormai. Tutto è finito e sono libera. Così lei credette di comprendere. E lo ringraziò ad un sorriso. Povero Dino. Con tutta la sua biancheria di seta. Come se è ridotto adesso. Ma aveva capito che non poteva sacrificarla a lui. E forse, invece, egli aveva parlato così soltanto perché stava là dentro, chiuso, coi suoi pensieri d'uomo sotto chiave. E lei era libera. Dino viveva della vita di fuori, dove non si pensa alle prigioni e ai carcerati. E quelli lì dentro non ricordano che fuori vi sono le necessità di denaro, i debiti, l'affitto. Fuori è aria libera. E nella loro solitudine non pensano che a questo, alla libertà e il loro ossessionante tormento rimbalza tra le quattro pareti sorde, logorando a poco a poco il cervello e il loro essere umano. Dino chiese, E Tom? Buon figliolo, Tom. Ti vogliono molto bene, anche la Mary. È venuta sempre a trovarmi. Lui è stato qualche giorno in viaggio. Sai, adesso è tornato. Ah, è tornato. Sì, ieri. Ieri, disse piano Dino. Ieri hanno fatto quindici giorni dal mattino che sono stato preso. Sedici oggi. A testa bassa, Xenia attendeva l'altra domanda. La sentiva già negli orecchi. E Horsch non poteva mentirgli. Sì, anche Horsch è venuto. Avrebbe risposto. E Dino avrebbe compreso. Che doveva fare, povera Xenia. Sì, come te, infatti, anche tu non potevi fare altrimenti, povero Dino. L'onestà è una gran soddisfazione. Sempre gli idealisti lo ripetono. Ma gli idealisti non parlano mai di denaro. Di come si fa per tirare avanti, per mangiare. E ci si arrangia allora. Un po' meno di idealità, un po' più di denaro. Ma Dino non domandava nulla. Giocava con le dita. Entrò il custode annunciando che il colloquio era finito e restò sulla porta ad aspettare. I due detenuti si alzarono in fretta, ansiosi di mostrarsi obbedienti. S'accostarono alle donne e dissero loro, addio. Sorridendo, come se andassero in giardino a giocare, Dino mise la mano nell'apertura delle sbarre. Xenia gli dette la sua. Le trattennero unite, guardandosi. Forza, eh, bambina! Pareva tornato il Dino di una volta, ma fu un attimo soltanto. Poi si volse al custode per assicurarlo che andava subito e disse a Xenia, torna, eh? Agitando la mano in segno di saluto. E la nuì sorridendo e lo vedeva indistintamente, povero Dino, perché aveva gli occhi appannati per le lacrime. I due scomparvero, oltre alla porta laterale. La donnetta, rimasta accanto a Xenia, la guardava. Esce presto? Fece indicando con la mano la porta dove i due uomini erano scomparsi. Sì, sì, presto. Si avviarono, insieme, affettuosamente. Poco discosto dalla porta del parlatorio, un detenuto vestito a strisce alterne, marrone chiaro, marrone scuro, lavorava a riparare alcuni fili elettrici. Xenia lo fissò, con gli occhi sbarrati, e si fermò per vederlo da vicino. È un galeotto, pensò, e senza volerlo immaginò Dino, vestito con quelle strisce, con quelle scarpe. L'altro, sentendola ferma lì presso, d'acchinato com'era, levò la testa, a guardarla di sotto in su, e scorgendola, giovane e bella, le sorrise. La ragazza riprese a camminare in fretta, e intanto pensava con orrore, ridono, stanno qua dentro, vestiti così, e ridono. La vecchietta accanto a lei seguitava a discorrere, il mio non uscirà presto, chissà quando andrà il processo, lui crede d'avere la libertà provvisoria, ma non uscirà. Di che si tratta il suo? Di che? Affari? Truffa? La vecchia corresse. Xenia non replicò, chiese anzi, e lei? Quella scosse la testa, no, tentato omicidio, ma sempre per questa, e si batte la mano sulla bocca, fame, uno che lavorava con lui, e non gli riconosceva la sua parte, lo sfruttava da tanti anni. Più piano aggiunse, non l'ha preso però, e si capiva che se ne rammaricava, poi, inclinando la testa in un moto di intesa confidente, chiese, e il marito? Xenia assentì, e intanto si sforzava di ritrovare la faccia del vecchio, una faccia pingue, buonaria, chissà da quanti anni sopportava. Non onesti e disonesti, ma poveri e ricchi vi sono al mondo. Adesso il vecchio sorrideva, appagato. La donna le camminava accanto, dondolandosi, e sul portone si fermò, alzò gli occhi al cielo, fece, «Ancora piove, io scusi, vado in fretta, devo ancora preparare la cena!» E con un cenno d'addio la lasciò. Xenia la guardò allontanarsi, curva nella pioggia. Horsch non si fece vivo in tutto il giorno, e Xenia non lo cercò. Era immersa nella grigia atmosfera delle carceri, sentiva perfino sulle mani l'odore dell'arancia che il vecchietto sbucciava con calma. Doveva essere di quegli uomini tranquilli che resistono, resistono, docili, finché un giorno freddamente ti saltano al collo e stringono con una forza insospettata. Poi prendono il tram e vanno a costituirsi al più vicino commissariato. Terribile la prigione, vivere rinchiusi con tante diverse tragedie, un mondo stravolgente. L'aveva compreso vedendo Dino così, con la barba lunga, senza cravatta, avvilito. Non se l'immaginava cos'era la prigione. Horsch contro di questi la prese una ribellione improvvisa. Non lo cercò. Era irritata contro di lui per quella sottomissione che era nella voce di Dino. Forse egli vedeva, oltre ai muri della prigione, Horsch che gli portava via la donna come gli aveva portato via la libertà. Per fame. E allora Xenia riconobbe che si diceva così per compatirsi. Non fame. Ambizione. Al mattino, uscendo, mentre si metteva certe costose scarpe nuove, riebbe tra le mani, nel pensiero, le fangose scarpe malandrate che portava al paese sulle calze fitte di rammendi. Sì, ambizione, perché, insomma, gli voleva bene, povero Dino, ma non poteva per questo rinunciare al proprio avvenire. Il giorno dopo, telefonò a Horsch e gli le disse che sarebbe andato da lei la sera e quando giunse, la trovò in salotto pronta per uscire. Andiamo un po' fuori? Gli chiese. Come volete. Uscirono. Nella sala, egli vuole domandare, Ieri? Ma Xenia li interruppe prendendogli il braccio. Perché parlare di ieri? Parliamo di stasera. Dove andremo? E pensava che non questa soddisfazione non gliel'avrebbe data di dire che aveva visto Dino dietro la gratta finito. No, di ieri non se ne parla. Vengo con te, sono contenta di venire, ma basta. Perché offenderlo ancora, quel povero Dino? Egli pensò un momento, poi disse Andiamo a cena al circolo. Il circolo. Un luogo molto elegante, Horsche non permetteva a nessuno di andarlo a trovare lì. Se avevano qualcosa da dire che telefonassero. E anche questo gli garbava poco perché, diceva, al centralino stavano sempre in ascolto. Giocava lì la sera, lì aveva tutti i suoi grossi amici. Xenia sussultò di contentezza, ma approvò. Calma. Bene, al circolo. In fondo, poco dopo, Xenia pensò la foresteria di un circolo elegante è piuttosto noiosa. Non era una casa privata né un ristorante. C'era poca gente, silenziosa, sulle pareti rivestite fino a metà di finto cuoio, stampe inglesi rappresentanti i cavalli che avevano vinto corse celebri almeno trent'anni fa. Cavalli bai, cavalli morelli, in sella il fantino stringato di rosso, celebri fantini, celebri cavalli, fantini morti, cavalli morti. È un posto dove si sta bene perché è di buon gusto dire di trovarci sì bene. Infatti, Xenia osservò spiegando il tovagliolo si sta molto bene qui. I camerieri andavano attorno silenziosi sul tappeto nella grande sala avvolta dell'antico palazzo. Sudivano ottenire bicchieri le posate, i commensali pochi si salutavano in silenzio con gli occhi come facenti parte di una confraternita. Vecchi scapoli erano e avevano le loro piccole manie. Uno si lamentava perché avevano salato la verdura che il suo regime voleva sciocca, l'altro borbottava che era stufo da attendere, si innervosiva, contraeva le mani sulla tovaglia. Più tardi entrarono altri uomini più gioviali ed espansivi che Horsch invitò a prendere il caffè. Uomini settentrionali robusti e lucidi che ridevano facilmente e smuovendosi frusciavano nelle giacche foderate foderate di seta. Erano i grossi nomi dell'industria, la gomma, i tessili, ancora i tessili, gli asfalti. Horsch disse presentando Xenia la signora Costantini. Deferentemente gli uomini si inchinarono a baciarle la mano. Signora, egli aveva detto, e lei ne rimase colpita. Chissà perché dice così. Si vergogna di me. E allora arrossì violentemente. Ieri qualcuna l'aveva presa per una donna maritata, la vecchietta della prigione. Mio marito è in galera per affari, sì, per truffa. e fu con un brivido che s'accostò nella sua nuova personalità di signora Costantini. Al contrario di ciò che accadeva quando era a Condino, qui ella fu il centro della conversazione. Gli uomini parlando si rivolgevano verso di lei e Horsch la spingeva a parlare. La sua conversazione era spigliata e vivace, aveva sempre osservazioni intelligenti. Uno dei più anziani, la gomma, che pareva interessarsi molto a lei, le chiese lei è romana, signora, vive a Roma? E prima che Xenia potesse rispondere Horsch spiegò la signora è di passaggio a Milano ma desidera stabilirvisi. Ella, graziosamente a noi, mi piace tanto Milano. La gomma, gli asfalti, i tessili sorrisero compiaciuti. Horsch e Xenia senza guardarsi si intendevano già complici. Niente più dino dunque, dopo quell'attimo niente fuga da Roma, chi parla più del guantaio e la non ha mai vissuto a Milano? Horsch, senza neppure chiedere il suo consenso, le ricostruiva la vita, si appropriava il suo passato, lo riduceva a seconda dei suoi desideri. Vandina, Tom e la Mary, chi nomina più quelle persone? Tutto finito. Adesso forse Horsch le creerebbe un marito immaginario, un barone magari, ecco, un barone, ufficiale di cavalleria. Il barone è morto, morto, mettiamo, nella guerra d'Etiopia, troppo recente però, e allora, no, morto in un incidente di automobile. Benissimo, adesso la signora per distrarsi, poverina, viaggia e si stabilirà a Milano. Dove? La signora non sa, non sa nulla, la sua vita passata e futura dipende dal grosso signore Calvo che le siede accanto, i trasporti automobilistici. Niente è cambiato tra di loro, eppure da stasera egli non è più un estraneo. Forse per quella tacita intesa di non parlare più di quel povero Dino. E c'è già tra loro qualcosa per il quale Xenia capisce che bisogna trattare la gomma col maggiore riguardo, anche se la gomma ha l'acidità di stomaco e non è piacevole sedergli accanto. Horsch glielo ha presentato con un particolare il sorriso. Gli ha ceduto il posto vicino a lei e li lascia parlare, fuma, sembra assente e invece la guarda, guarda la bocca, gli occhi vivi e assapora e quasi fa scorrere sulle dita tutto ciò che lei dice e lo trova perfetto. Sembra a lei che Raimondo le ripeta ancora voi siete una donna che non somiglia a nessun'altra. Giungono altri due, il legno e un piccolo signore tondo provinciale che parla con accento pugliese e si chiama semplicemente Alfonso Bortone. Il signor Alfonso Bortone viene al circolo per la prima volta, si guarda attorno, si siede sull'orlo della sedia, la fissa sorridente. Evidentemente a signor Alfonso Bortone piacciono le donne, ma egli non è né la gomma, né gli asfalti. Dall'occhio amabilmente indifferente di Horsch, Xenia ha compreso che il nuovo arrivato è trascurabile. beve, Xenia, un vino delizioso, quasi in colore, ambra pallida, un vino di Francia che scorre facilmente e lascia un amaro asciutto in bocca. Xenia pensa, ho già udito questo nome, Bortone. Sì, una cosa di molti anni addietro, ma dove, dove? e poi d'improvviso trova, ecco, in collegio, Anna Bortone, quella bianca e olimpica Anna Bortone che mangiava le castagne crude e diceva che voleva tornare in campagna. Sì, sì, Anna, amica o parente di quella Valentina alla quale vibravano le narici quando si parlava di uomini. Questo signore tondo forse è parente di Anna? Ora tutti discorrono e fanno disegni sulle vacanze delle feste di Natale, vanno in montagna, in riviera o ai laghi, nominano alberghi di lusso. Il pugliese dice invece noi usiamo rimanere in casa a Natale e io sono in lutto, vede? E le mostra la fascia sul braccio ho perduto mia madre. Xenia ride tra sé, è il vinetto, forse, ma quanti anni deve avere mai avuto la madre del Bortone? Orfano, poveretto, come si fa a non ridere? E poi noi, egli insiste, usiamo passarlo in casa al Natale. Sì, sì, come a Veroli, odore di noia, gesti tramandati di generazione in generazione, il cappone che è sempre duro, ma è d'usanza, l'uva che pende in cantina e sa di muffa, ma è d'usanza anche quella. Tornerò a gennaio per il consiglio di amministrazione se potrò, ma proprio in quei giorni alla fine di gennaio mia figlia si sposa e a Roma studia, deve laurearsi in questi giorni e poi, allargò le braccia come per mostrare l'impotenza della sua volontà, poi torna e si sposa. Xenia voleva esclamare, Anna, si sposa Anna, ma si trattenne. Non esiste il passato, quindi per lei non esiste più Anna. la signora Costantini, vedova del barone ufficiale di cavalleria. L'anno passato non poteva essere in collegio, l'altro anno era a passare il lutto nella sua villa del Lazio dove gli antichi mobili sono disposti con tanto buon gusto. Certo, così avrebbe detto Horsch, ed è là tacque infatti. Le cose, dunque, sono andate avanti al collegio. Anna si laurea, esce, si sposa, chissà con chi si sposa. Lei invece è scappata e fa la mantenuta. Sì, la mantenuta, perché non avere il coraggio di pronunciarla quella parola? Al collegio, senza di lei, tutto è continuato lo stesso. Nella sua immaginazione le amiche erano rimaste ferme a quel giorno, a quell'anno e invece gli studi finiscono. Anna si sposa e lei fa la mantenuta. Come potrebbe dire al Bortone? Sai, io conosco sua figlia. Cosa? Non è possibile farebbe quello. Ma sì, sì, al collegio. Il signor Bortone penserebbe forse che al Grimaldi l'ambiente era un po' misto. Che piccolo guscio il mondo. Anna esce e si sposa e lei avrebbe sempre continuato a immaginarla là dentro. Se esce Anna anche Silvia uscirà. Erano dello stesso corso. Chissà come sta Millie, quella bionda linfatica che parlava come in sogno. A una a una escono e si spandono per il mondo. Adesso, se lei volesse potrebbe ancora ritrovarle, riprendere quel suo pezzo di vita lasciato interrotto al collegio e tra un mese invece o tra un anno tutte saranno disperse. Chi ricorda più che c'è stata una Xenia Costantini? Quel suo pezzo di vita si scioglierebbe nel nulla. Questo è il padre di Anna. Vorrebbe toccargli il braccio e chiedergli signor Bortone quando sposa sua figlia. Vorrebbe che in quel giorno Anna che in collegio dormiva di là dalla parete della sua camera ricevesse un bel dono da Xenia. Xenia, quella che scappò o meglio senza nome perché Xenia quella non c'è più. È come se si fosse buttata nel fiume per disperazione e il suo corpo riposasse adesso sulla melma del fondo. Sì, meglio senza nome. Ma il signore che si è accanto a lei ha deciso che tutto ciò non è stato e per questo ella non può mandare doni ad Anna che si sposa. Ormai la signora Costantini non deve interessarsi dei casi onesti e provinciali della signorina Bortone e così è una fortuna che sia così. Ma negli occhi della signora Costantini trema il cavallo Baio che vinse il derby reale a Londra nel maggio del 1903. Piove tutta la notte attorno al pesante silenzio del collegio questo rovesciarsi di pioggia metteva brividi paurosi. Suor Lorenza sveglia ascoltava. Le cortine bianche del letto l'isolavano dal mondo era come essere avvolta in una vela e placida navigare in mezzo al mare in tempesta. Tutta la vita del mondo confinata in una lontananza irraggiungibile prima accanto alla sua tenda c'erano le tende delle compagne era già un contatto umano altri naufraghi sul mare. Dal giorno in cui era divenuta madre superiore aveva capito cosa significava essere monaca fino a quando aveva potuto agire si era sentita commista alla vita delle altre donne del mondo la sola differenza era in quella cuffietta nera sulla testa non aveva mai rimpianto alla libertà e adesso invece rievocava il paesello Ligure dove era nata e la sonora voce delle onde e sentiva il desiderio di scendere scalza sulla spiaggia e immergere i piedi nell'acqua sollevarli vederne cadere i puri diamanti lasciarsi scivolare nel mare a braccia aperte il sole sulla faccia vita operosa e pacifica nel paese solo nelle sere di Libeccio tutti accorrevano sulla baia per vedere i brigantini rientrare col gran ventaglio delle vele squassato dal vento ella studiava in un convento che stava a picco sul mare come uno scoglio e a marzo il sole intiepidiva il cortile della scuola lei sedeva con le compagne sulle panche lunghe era bello stare tutte insieme nella mite dolcezza della comunità femminile le ragazze più piccole si raggruppavano intorno a lei poi la campana levava la sua voce serena nel declinare del giorno non c'era altra vita in paese al di fuori di questa non si sa come ma naturalmente forse perché non avrebbe potuto essere altrimenti un giorno si trovò una lunga panca vestita da monaca accanto a lei altre monache sedevano adesso inchini a destra inchini a sinistra quando la madre entra nel refettorio le ragazze tacciono e scattano in piedi non si lagnano non dicono neppure più che la minestra è cattiva come faceva la Costantini attendono soltanto che lei se ne vada è brutto pensava arrivare al sommo della scala si diviene un estraneo per tutte chiusa nella propria insoddisfazione quando una cosa è raggiunta perde valore ci si dimentica della lunga tensione del desiderio già la volontà si tende verso altri desideri insoddisfatti e non si ha il diritto di lagnarsi si è arrivati a ciò che si mirava dal punto di partenza era tormentata dall'idea di non conoscere più l'animo di quante la circondavano sorrisi inchini ma poi che cosa complottavano alle sue spalle le pareva di udire dietro il suo passaggio misteriosi commenti bisbigli assillata da questi dubbi passeggiava per ore nello studio come una belva rinchiusa un giorno la sorprese suor prudenzina suor prudenzina viene dalla campagna negli occhiali tondici appena spazio per riflettere l'immagine di dio madre le ha detto voi avete perduto la pace del cuore chi parla così alla madre chi osa la soretta incontro a lei la guarda è inesorabile forse si inchinerà se la madre vorrà accusarla di poco rispetto ma rimarrà tranquilla nella sua opinione la madre non nega mormora soltanto le ragazze non pensa che a questo notte e giorno si sveglia la notte di soprassalto le ragazze le ragazze è un'ossessione questa parola le cova nel cuore è una voce che di continuo echeggia nella sua testa e se anche scuote il capo non se ne libera se si tura gli orecchi ugualmente la ode le ragazze le ragazze non conosce le nuove arrivate e le vecchie a poco a poco se ne vanno a qualche tempo ha sempre un tremore sulle labbra le dita si contraggono nervosamente se non la liberano la madre impazzirà ma suor prudenzina non capisce le ragazze sono soltanto strumenti che mettono a prova la sua pazienza per l'eternità dice bisogna molto pregare anche per le ragazze suor prudenzina forse non sente la presenza della divinità nei suoi campi suor lorenza invece amava dio nel mare dio nelle ragazze che crescevano a fianco a lei dio nel sole suor prudenzina si porta dio nel petto bianco e celeste come la statua della cappella si muove dorme mangia perché è necessario far tutto ciò per avere la forza di adorare dio e la sua vita si esaurisce si svuota in quella adorazione bisogna molto pregare anche per le ragazze come pregare per loro le adolescenti sono così misteriose non si sa che cosa pensino che cosa vogliano anche se ci si accosta a loro non si riesce a superare il segreto nel quale sono strette dicono solo la metà di ciò che pensano il resto rimane loro annidato negli occhi le suore rimangono adolescenti tutta la vita non parlano mai della casa dei parenti non si sa perché a un certo punto si siano chiuse là dentro di un certo punto di un certo punto Grazie a tutti